Gentili telespettatori, buona giornata. Sondaggio demoscopica sulle elezioni comunali di Milano. Bernardo del centrodestra davanti a sala del centrosinistra. Quindi Luca Bernardo ha una forbice tra il 45 e il 49 per cento, mentre Beppo e sala del centrosinistra tra il 43 e il 47. Ci sono due punti di vantaggio del centrodestra. Mentre il candidato del Movimento 5 Stelle che non esiste sarebbe tra il 5 e il 7 per cento. Altri candidati sarebbero tra l'1 e il 3 per cento. Abbiamo proprio visto sull'altro canale Tele Italia Seconda Rete un sondaggio completamente all'opposto dove vede addirittura sala in vantaggio di 9 punti percentuali su Luca Bernardo. Quindi capite che i sondaggi danno ragione a chi li commissiona o comunque sono palesemente schierati o col centrodestra o col centrosinistra. Pertanto prendeteli assolutamente con le pinze. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata.